Dopo aver passato ad Enzo Belloni lo scranno di presidente del Consiglio Comunale nel nuovo mandato amministrativo di Andrea Biancani, sindaco, Marco Perugini decide di restare in Consiglio Comunale. Ieri sera il Partito Democratico l'ha nominato capogruppo dei Dem ereditando un incarico detenuto da Anna Maria Mattioli che resta vice capogruppo di quello che con 10 consiglieri su 32 è il partito maggioritario dell'assise pesarese. Sono molto orgoglioso che il gruppo consigliere del Partito Democratico abbia individuato me come coordinatore e guida di un lavoro importante che verrà fatto. È un'amministrazione che è a guida PD, il risultato del Partito Democratico è stato molto importante e il gruppo consigliare è il più numeroso della maggioranza. Quindi è la grande responsabilità di guidare questo gruppo a sostegno dell'amministrazione ma con due parole chiave importanti, protagonismo e responsabilità. Il protagonismo di un gruppo consigliare, di consigliere e consiglieri che saranno presenti sui temi, che saranno presenti nella città, continueranno a esserlo perché questa è la responsabilità che abbiamo avuto da parte dei cittadini. E responsabilità, la responsabilità di portare avanti e condurle le grandi sfide che ci vedono alle porte e si vedono alle porte, quelle delle manutenzioni, quella della capitale italiana della cultura per cui i risultati sono sotto gli occhi di tutti e che si sta completando in un anno che non sarà l'ultimo di una grande città che si sta sviluppando da questo punto di vista ma il primo sicuramente di lunghi anni di investimenti e importanti sviluppi per la nostra cultura e il nostro territorio. Ma sicuramente una città è un gruppo consigliare che continuerà a investire sui servizi, sul sostegno alla persona e la crescita della persona. Gran parte, un terzo del nostro bilancio comunale per scelta da anni è impiegato proprio per questo. Non basta, è ancora oggi tema di dibattito il tema dei servizi educativi, le scuole dell'infanzia, il sostegno alla persona, sono nuovi bisogni, nuove le esigenze, nuove le strategie che dobbiamo mettere in campo. Il ruolo di protagonismo che io ho sempre voluto dare al Consiglio Comunale da Presidente è quello che voglio far ottenere al gruppo consigliare del Partito Democratico nel ruolo di capogruppo. Perugini sceglie dunque la sua vocazione politica declinando le offerte pubblicamente palesate da Biancani durante la presentazione di quella giunta in cui Perugini aveva un consenso elettorale tale a cui aspirare. Il sindaco mi ha chiesto di lavorare nel suo staff di fiducia, insomma, come dipendente dell'amministrazione. Io ho ringraziato il sindaco per questa fiducia ma ho voluto rimanere in Consiglio Comunale perché io da 15 anni faccio politica, politica per la città, per il bene comune, per l'interesse generale e questo voglio continuare a fare. Non ho bisogno di fare politica per un lavoro, voglio fare politica per quello in cui credo e quello a cui voglio portare avanti, il bene a città e il bene comune.